e benvenuti qui in questo video avviso ragazzi vi ricordate la scorsa live c'è stato un piccolo problemino che avevo detto chi ha 50 iscritti mi dicevo usciva la faccia mi sono ricordato che non ho attrezzi per uscire la faccia quindi ragazzi non vi dis iscrivetevi perché cercherò di fare il più presto possibile per risuvere questo problema comunque ragazzi un altro avviso tre alle oggi non so quello a che ora ma farò una live su minecraft ps4 come sempre e niente raga vediamo cosa posso dire giusto raga ho scaricato questi giochi nuovi tipo social star marvel da virgolette marvel social star roberi bobo andy birds roberi bobo 2 e e questo gioco c'è sto sim comunque ragazzi cercamati cercatemi su telegram mi chiamo così raga telegram eccomi alle gamer dovete scrivere semplicemente alle gamer e mi troverete non diri complicato e se volete e per farmi una una mia chat segreta non dovete fare solo chiamami così guardate chioccia la q 2015 se volete farmi una chat segreta spero che raga faccio una cosa ah no 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 ok raga quindi ragazzi questo è stato un piccolo avviso riguardo la la faccia ragazzi però cerca di fare più possibile qui ragazzi noi ci vediamo con un prossimo video bella raga